Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, nuovo video pulizia della mia camera stavolta mi sono decisa che voglio fare un video sulla pulizia della mia camera non so ancora dove metterò il telefono per far vedere tutte le clip del video non importa, è importante fare un video come piace a me comunque nulla, io nel frattempo mi metto apposta il letto, riordino tutto quanto e poi ovviamente molte cose le sistemerò strada facendo comunque non vi preoccupate se mi vedete un po' mezza sudata ma capirete bene che sono per uscito al fuoco di casa per fare altre cose quindi non sto lì a dare troppi dettagli niente, io vi lascio il video perché vedete un po' com'è ho tutto il letto a strazio, anche la camera non è male però va bene no comment, ecco qui e noi ci vediamo dopo un qualche secondo non lo so, alla fine del video se non ne ho idea magari vi saluto tramite un'annotazione, una nuvoletta, non lo so buona visione e a topo non lascio neanche la sigla, la sigla era questa questo lungo mini impappone, non so, vabbè ciao 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 Ecco che letto è fatto, si lo so da quella parte un po' così che è letto è fatto un po' sembra un pallone ma non è nulla di che ve lo facciamo vedere Allora ragazzi incidente del percorso come al solito io sono imbranata e quindi ho dovuto riregistrare tutto a capo Comunque vi dicevo questo pezzo del letto era così perché il cuscino è piccolino quindi vabbè dormo sul cuscino molto morbido e piccolino ma va bene così Niente, io non so fino a quanto riuscirò a registrare questo video con questo telefono che è un po' scandidato ma non fa niente Io continuo finché ce la fa perché non tira tutti i miei respiri È un po' vecchiotto ma l'ho comprata l'anno scorso già fa i capricci, non capisco comunque Questo trucco tra poco lo vedrete su YouTube, non tra poco, subito subito nel tempo di registrare due o tre parti di videoclip E poi rimonto su Kymaster, non so con quale dispositivo ma ce la devo fare per forza Niente ragazze, questo volevo essere un piccolo video checcheremo un po' insieme anche se non ho checchierato però qualcosa diciamo che l'ho detta Comunque stamattina sto bene, ho riposato benissimo e non è nulla Ecco questo vedete tutto, l'ho imbranata anche qua sopra Sì, lì avete tutto registrato e anche da questa parte potete vedere, c'è un po' di roba Aspettate per non farmi girare troppo la testolina, ok? E questo è tutto quello che vedete voi Vieni ragazze, io adesso concludo il video qua perché era solo un breve video lungo Anche se è lungo e corto perché non è che io voglio fare chissà quanti chiacchiere Anche se nei video hall parlo come se non ci fossero domani ma pazienza Intanto sono a trovarmi i miei amici bruffoli ma non ne ho molti Diciamo, sono fortunata da quando ero adolescente già e quindi niente Ciao ragazze, like, commento e se vi va iscrivetevi Ciao, ciao ciao